no 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 non è vero non è vero non è vero che claudio cappucci nell'estate del 92 sto verificando su un vecchio almanacco del mitico lamberto righi non è vero che cappucci abbia fatto una tournée in ecuador una tournée di criterium nell'estate del 92 e poi dopo nove mesi maggio 93 si è nato richard carapace toglietelo la testa non è il figlio segreto di cappucci anche se i due si assomigliano come due gocce d'acqua le somiglianze finiscono lì perché a vedere lì in corsa si capisce subito che l'indole è tutta diversa questo carapace ieri l'ho definito un anticiclismo lo confermo oggi non ho pensato neanche una lacrima quando lui e lopez sono stati raggiunti in dirittura d'arrivo da una cerata di frum dopo che si erano avvantaggiati negli ultimi chilometri perché c'era in ballo la maglia la lotta per la maglia bianca e quindi carapace ha stranamente attaccato lopez ha risposto ha parato il colpo ora i due sono arrivati lopez terzo carapace quarto risultati importantissimi nella classifica generale lopez miglior giovane del giro però ora al di là di tutto devono imparare a correre non possono stare lì sempre tutto il tempo a ruota devono assumersi le loro responsabilità è antipatico a vedersi insomma questo questo giochino di braccino dai per esempio uno che ha assunto le sue responsabilità è tom dubuleno oggi che ha pescato quel poco che gli era rimasto per provare ad attaccare frumo perché perché il ruolo glielo imponeva il campione uscente del giro d'italia secondo in classifica a non tanti secondi dal primo e quindi ha dovuto provarci ci ha provato bravo lui anche se non è riuscito a a cavare un ragno dal buco quindi giro d'italia a frum con grande merito dopo la grande impresa di ieri una tiratina d'orecchie a diversi avversari di frum e anche i loro direttori sportivi ora io nei giorni scorsi ho lanciato delle frecciatine agli appassionati che davano già per scontata la vittoria di samoyes dicevo piano calma aspettiamo però io posso perdonare un appassionato che magari nella vita di tutti i giorni ha anche altre cose oltre al ciclismo per la testa c'è il capo ufficio che rompe le scatole i bambini che piangono che vogliono il motorino o le bollette da pagare quindi capisco che possa uno non stare sul pezzo e magari qualcosa gli sfuga ma gli addetti ai lavori no non è possibile che ogni anno ci si dimentichi che la terza settimana è un'altra cosa e si sottovaluti questo fatto la terza settimana e tipo Pinocchio oggi ti becca tre quarti d'ora ed era terzo in classifica è questo la terza settimana è un campione un corridore di classifica che salta ogni giorno ogni giorno ne salta uno ieri yes oggi Pinocchio se il percorso ovviamente è abbastanza selettivo e duro questa è la terza settimana ora che nei primi giorni chris frum non sia stato messo fuori classifica dai suoi avversari quando ne avevano la possibilità perché lui stava sicuramente non al meglio stava male perdeva terreno qua e là questo è un grave errore perché poi alla fine frum ti risale di condizione ti rientra in classifica e ti va a vincere il giro d'italia è vero che ha dovuto fare un'impresa clamorosa ieri però questo è quello che succede nella terza settimana e mi piace che oggi bellino di rcs dopo la tappa abbia sottolineato proprio questi aspetti e abbia difeso spada tratta l'idea che il giro mai dovrà essere tagliato come suggerisce invece il presidente usi l'appartiene ha detto anche un'altra cosa ha detto che si lavorerà per farlo crescere ulteriormente il giro e devo dire che rcs sport in questi anni sta lavorando bene quindi insieme a frum anche loro sono vincitori di questo giro d'italia 2018 che si conclude domani noi non vediamo l'ora anche voi credo mi sarete stufati di vedermi tutti i giorni sentirmi ripetere gli stessi concetti purtroppo sono un po anziano quindi tendo a reiterare però domani sera ci prendiamo un paio d'ore di vacanza di stacco e poi dal lunedì potremo ricominciare a pensare al ciclismo ai prossimi appuntamenti al tour de france dove frum e du moulin i due grandi campioni di questo giro torneranno a sfiderà a sfidarsi e troveranno anche un certo vincenzo nibali e nairo quintana se tornerà al suo best come gli auguriamo e basta per oggi credo di aver detto anche troppo ci vediamo domani sera ciao del ciclo web